La fine di una relazione può essere veramente difficile e a volte anche caotica, ma in qualche modo si riesce ad affrontare e gestire e si va avanti con la propria vita. Ma chi non riesce ad andare oltre? Ecco, questa è la storia di cui andremo a parlare oggi. Il caso mi ha colpito, perché ogni volta che pensavo che la situazione non potesse diventare più triste o addirittura più assurda, i fatti mi hanno smentito. Ma andiamo con ordine. Seth Jackson era un normalissimo adolescente, viveva a Summerfield in Florida. I genitori lo descrivono come un tipo amichevole, estroverso e popolare. Al liceo Seth comincia a uscire con una ragazza di nome Amber. I due sembrano molto legati e postano foto assieme sui social per mostrare a tutti la loro felicità. Dopo un breve periodo di tempo però si lasciano e hanno iniziato i problemi. Seth è molto infastidito perché Amber è già andata oltre e ha cominciato a uscire con un nuovo ragazzo di nome Michael Bargo. Quindi va su Facebook e comincia a scrivere post offensivi nei confronti della sua ex, dandole della tossica e della facile. Amber risponde allo stesso modo con post in cui accusa Seth di averla tradita e picchiata e i due continuano così per giorni. Il 17 aprile del 2011 Seth è a casa di un amico quando riceve una serie di messaggi da Amber che voleva che si incontrassero per sistemare la situazione. Gli amici ritengono una richiesta del genere un po' sospetta e consigliano a Seth di non andare dalla ragazza. Ma il giovane, che è più segnato dalla rottura rispetto a quanto mostra, accetta di vederla. Prima le scrive, Amber se mi freghi non te la faccio passare, fregami e ciao. La ragazza lo assicura che sarebbe andato tutto bene e che ne avrebbero parlato da soli con calma. Così Seth si presenta alla roulotte Charlie, un'amica di Amber. Quando Seth non torna a casa quella notte, i suoi genitori capiscono immediatamente che è successo qualcosa. Il ragazzo è sempre stato molto responsabile e chiama sempre la madre per dirle dove si trova. Visto che non si è fatto vivo, la mamma chiama subito la polizia per denunciarne la scomparsa. All'inizio i poliziotti pensano che Seth sia scappato di casa. Ma se fosse successo qualcosa, controllano i tabulati telefonici del cellulare del ragazzo e scoprono che l'ultimo contatto che avevano avuto prima di sparire è lo scambio di messaggi con Amber. La polizia va a parlare con la ragazza che conferma di aver visto Seth. Ma il ragazzo non si era fermato più di alcuni minuti e poi se n'era andato. Lo stesso giorno Amber si trova a casa a guardare la televisione con la madre e il fratello adottivo Kylie Hooper quando viene data la notizia della scomparsa di Seth. E mentre guardano il servizio Kylie dice non è scomparso, è morto. La madre rimase ovviamente sconvolta dall'affermazione del ragazzo e chiede a Kylie se ne sapeva qualcosa della sparizione di Seth. E così Kylie confida e racconta quello che è successo. La madre chiama immediatamente la polizia e Kylie va dritto in centrale a confessare tutto. Amber aveva chiamato Seth a casa di Charlie per parlare e Michael aveva sparato al ragazzo e lo aveva ucciso. Ma non era tutta la storia. Stando a quanto la polizia ha ricostruito, le cose sono andate in modo diverso e diabolico. Amber viene fermata ed interrogata da essenzialmente la stessa dichiarazione del fratello ovvero che era stata una spettatrice innocente e che Michael l'aveva minacciata. Dopo il fatto, lei era andata nella camera di Charlie e aveva dormito fino alle 11, 11 e mezza della mattina successiva. La polizia allora ferma Charlie e la mette nella stessa stanza di Kylie ed Amber sperando che inizino a parlare del crimine e lo fanno. Iniziano a dire che avevano ucciso Seth e che lui non era innocente. Kylie dice che Seth non era innocente perché aveva minacciato di far del male alla sorella e di dar fuoco a casa loro. Quindi che cosa succede davvero quella notte? Sembra che Amber avesse detto agli altri che Seth l'aveva picchiata. Michael aveva quindi suggerito di ucciderlo e tutti avevano detto di sì. Avevano quindi pianificato il tutto. Amber avrebbe attirato Seth a casa di Charlie e tutti gli sarebbero saltati addosso e l'avrebbero ammazzato. Il primo ad attaccare fu Kylie che colpì Seth alla testa con un bastone di legno. Poi si unì un altro ragazzo, Justin Sodo. Quando arriva Michael, spara a Seth due volte. Incredibilmente dopo aver subito tutto questo, Seth era ancora vivo ed era riuscito a uscire dalla casa prima di essere colpito da Michael con un terzo proiettile. Dopodiché lo avevano portato in casa, messo in una vasca da bagno e gli avevano spezzato le gambe visto che sembrava che Michael volesse chiudere il corpo dentro a un sacco a pelo. E non è finita qui. Una volta messo Seth nel sacco a pelo, lo portarono fuori e gli diedero fuoco. È angosciante pensare alla sofferenza che il ragazzo deve aver provato prima di morire. E questi mostri rimasero alzati tutta la notte, bevendo, facendo festa e guardando il corpo di Seth diventare cenere. I vicini dissero poi di aver visto in lontananza il fuoco, ma di aver pensato che i ragazzi stessero facendo festa e avessero acceso un falò. Anche quando sentirono gli spari, pensarono che si trattasse di petardi e non ci fecero particolarmente caso. Ma c'è dell'altro. Quando ormai il corpo era quasi interamente bruciato, i ragazzi presero i resti di Seth, li misero in un barattolo di vernice vuota e lo buttarono nel fiume vicino. Poi pulirono la scena del crimine con la candeggina e James Heaven, il patrigno di Michael, gli aiutò a disfarsi dei resti e ripulire. Successivamente James ha dichiarato che aveva sentito che il gruppetto parlava dell'omicidio, ma aveva pensato stessero scherzando. La polizia recuperò i resti di Seth grazie a una squadra di sommorsatori che scandagliò il fiume alla ricerca del barattolo. I poliziotti trovarono poi altre prove nella casa in cui era avvenuto l'omicidio e pochi giorni dopo tutti e sei i sospettati vennero arrestati per aver preso parte a vario titolo all'uccisione di Seth Jackson. Si furono moltissime odienze e la famiglia del ragazzo lottò per ottenere giustizia. I fratellastro di Amber, Kylie e Justin Sodo furono condannati all'ergastolo senza possibilità di riduzione di pena. Charlie, che viveva sulla scena del crimine, si appellò alla condanna all'ergastolo e ricevette una riduzione a 10 anni di reclusione. Fu rilasciata nel 2020 dopo essere stata incarcerata 9 anni. Il patrigno di Michael venne condannato a 10 anni dopo essersi dichiarato colpevole di complicità di umicidio. Il processo di Michael attirò moltissima attenzione perché si trattava del più giovane condannato a morte in Florida. I suoi avvocati provarono a spiegare il suo comportamento con un'infanzia tormentata e il divorzio caotico dei suoi genitori. Ma ciò non funzionò. Per Amber le cose furono più complicate. Durante il primo processo disse di non avere idea che l'attacco avrebbe portato alla morte di Seth. Ovviamente la giuria non credette alle sue parole e la condannò all'ergastolo. Ma questo processo fu ribaltato a causa di un particolare tecnico in quanto al momento dell'arresto alla ragazza non erano stati correttamente letti i suoi diritti. Quindi ci fu un secondo processo in cui la ragazza venne nuovamente giudicata colpevole di umicidio di primo grado. Anche se non era la persona che aveva premuto il grilletto era opinione di molti che fosse lei che aveva causato l'umicidio. Eccoci arrivati alla fine di questo caso. Come vi ho detto all'inizio sono rimasto colpito del susseguirsi degli eventi assurdi anzi assolutamente crudeli. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento e grazie per avermi seguito fino a qui.